Rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, piano per la sistemazione straordinaria dell'edilizia scolastica, ferriera di servo, la reddita di reinserimento, commercio e piano energetico regionale. Sono queste le richieste che la CGL delle Frulli Venezia Giulia sottoporrà l'attenzione delle Presidente della Regione Deborah Saracchiani in un incontro programmato per i prossimi giorni. E' stato il segretario Franco Belci a illustrare al direttivo regionale che ha espresso una valutazione positiva sulla formazione della nuova giunta, anche se ha spiegato Belci l'assessorato della sanità forse da meglio darla a un politico eletto e si sarebbe potuto evitare lo spezzettamento della filiera della conoscenza. Sugli ammortizzatori in deroga, Belci si è detto convinto che la Saracchiani abbia posto il problema nell'incontro con il Premier Letta, mentre sui generali temi del lavoro saprà e sarà necessario costituire una task force e farla diventare subito operativa perché non c'è tempo da perdere. Belci ha elencato i numeri della situazione della cassa integrazione, ha spiegato che nel 2012 è aumentata del 22% rispetto al 2011, superando anche i picchi che aveva toccato nel 2010, anno peggiore della crisi. Ha quindi auspicato una revisione delle norme sul commercio perché non è possibile che la logica del profitto abbia la meglio sulla convivenza civile e sui rapporti familiari. Ha ricordato che il tema è aperto e che riguarda soprattutto il lavoro femminile. Infine, rapporti con le altre sigle sindacali. Il segretario della CGL ha parlato di una nuova stagione unitaria nata anche per le nostre scelte strategiche. È annunciato per il 22 giugno una manifestazione con Cisle Wille da definire ancora se a livello regionale o di singole provincia. Infine, una battuta sulla giunta Saracchiani. Non esistono giunte amiche perché noi dobbiamo giudicare i fatti. Anche quella di Illi era una giunta cosiddetta amica concluso, ma alla fine siamo andati allo sciopero generale.